Ciao e benvenuti sul nostro canale. Oggi nel video vi parleremo del dolce annuncio fatto da Michele Bravi e Giuseppe Gioffre durante un'intervista in diretta tv con Silvia Toffanin. Prima di iniziare, vi invitiamo ad iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Durante l'intervista a Verissimo, i giudici di Amici hanno avuto una conversazione intima che ha sorpreso molti fan. Malgioglio, con il suo stile provocatorio, ha spronato i colleghi a condividere di più sulla loro vita privata. Cristiano Malgioglio ha incoraggiato Michele Bravi a raccontare dei cambiamenti positivi nella sua vita, sottolineando che di solito scrive canzoni su storie tristi. Ciò ha suscitato risate e gesti d'intesa che hanno allontanato Bravi dall'imbarazzo della risposta. Successivamente, Malgioglio ha concentrato l'attenzione su Giuseppe Gioffre, svelando ai telespettatori che prima della diretta lui parlava al telefono in modo molto romantico, suggerendo l'esistenza di una relazione a distanza. Pressato ulteriormente, Gioffre ha confermato timidamente il suo stato sentimentale, ammettendo di avere una relazione. L'intervista si è conclusa con una riflessione di Malgioglio, osservando che tutti e tre i giudici di Amici sono felicemente impegnati. Toffanina poi concluso con un sorriso, ringraziando il famoso cantante dal ciuffo biondo per aver condiviso dettagli intimi su Bravi e Gioffre. E voi, cosa ne pensate di quanto è emerso dall'intervista?